Musica Attenti! Presenta... Al! Onore ai caduti! Musica Rimini ricorda oggi, 16 agosto, il 69esimo anniversario del sacrificio dei tre martiri riminesi, Mario Capelli, Luigi Nicolò, Adelio Pagliarani. La cerimonia ha avuto inizio questa mattina alle 10 con partenza da Piazza Cavour. Alla celebrazione hanno partecipato tanti cittadini, oltre alle autorità civili e militari e alle rappresentanze delle associazioni combattentistiche d'arma. Nel corso della cerimonia sono state deposte corone di alloro nei luoghi del ricordo, in Piazza Tremartiri, in Piazza Ferrari e in Via Ducale. Il corteo è stato accompagnato dalle note della banda Città di Rimini. Musica La manifestazione a ricordo dei tre martiri proseguirà nella serata alle 21.30 nella corte degli Agostiniani, con un concerto del gruppo musicale Yo-Yo Mundi, organizzato da Lampi di Rimini. Musica 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 Musica